Un'altra parte della cintura 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 se non riesci a rivedire c'è il camion d'oro eccola laggiù quella ora gira non è che quella vale perchè quella è il promontorio allora ci sta quando stavamo dietro c'era la regna ecco la nava delle due sta là dietro questa è una nirla è il parchi comune una nave da cosciera pure per gira dietro dovrei per lontanasse e poi c'era lì adesso l'ha visto qui 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Signore e signori a bordo quest'oggi abbiamo l'olio nusso, un olio viso, corpo, capelli con molte sostanze nutrienti per il vostro corpo Grazie a tutti Grazie a tutti